Ciao, oggi prepariamo insieme dei biscotti croccanti al cioccolato usando le noci, due tipi di cioccolato e i fiocchi d'avena. Portiamo in una ciotola 125 g di burro ammorbidito, 140 g di zucchero di canna e frulliamo per ottenere una crema. Quindi aggiungiamo un uovo grande, un quarto di cucchiaino di sale e frulliamo ancora. Poi aggiungiamo un cucchiaino e mezzo di cacao amaro. 90 g di cioccolato bianco, tagliato grossolanamente. 90 g di cioccolato al latte. 100 g di noci, sempre tagliate grossolanamente. 50 g di fiocchi d'avena. 100 g di farina 00 e mezzo cucchiaino di lievito in polvere. Mischiamo bene con una spatola e formiamo i biscotti a mano, adagiandoli su una placca da forno coperta con carta da forno. Con una porzione potete preparare 20-24 biscotti al cioccolato croccanti. Inforniamo in forno statico, preriscaldato a 180 gradi centigradi per 10-15 minuti. Condividi il video con gli amici. Clicca mi piace e iscriviti al nostro canale, cliccando sulla campanella per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video. Grazie e arrivederci.